A completamento dell'offerta residenziale abbiamo qui al KD Rimini anche Enector, la nostra wallbox 3,7 kW di potenza in carica in soluzione monofase o 11 kW in soluzione trifase. Può lavorare in modalità stand alone, quindi non ha bisogno di ulteriori accessori, ma a completamento di un sistema costal consigliamo di integrarla insieme al Planticore Plus G2 per poter attivare anche delle funzioni speciali come il blocco della stessa, una carica alla massima potenza oppure sfruttare solamente l'energia solare o eventualmente sia l'energia solare che un setup presetato dal cliente per andare incontro a qualsiasi tipo di esigenza. di ricarica di mobilità elettrica.